Sono le 9.40 e da diversi minuti ci sono decine di piacentini in coda per entrare a Italia. Alle 10 si apriranno le porte, l'inaugurazione ufficiale del negozio e del ristorante. I piacentini sono molto curiosi di vedere come sarà all'interno. Andiamo a vedere com'è, è una novità. Chi vuole per Piacenza? Un grande evento, dicevo. Un grande evento, sì sì, un grande evento. È un po' una novità, sono curiosa di vedere. Farinetti le piace? Sì, mi piace, mi piace. Un po' un evento per Piacenza? Ebbene sì, speriamo che vada a buon fine. Alle 10 in punto ci sono aperte le porte di Italy, i clienti stanno entrando, accolti da un applauso dei dipendenti. C'è anche uno dei figli di Oscar Farinetti, Francesco Farinetti, a fare gli onori di casa. Andiamo a sentire se Italy piace ai piacentini. Molto bello, molto, molto. Speriamo che duri per il lavoro, per i ragazzi e per tutti noi. Anche come esposizione, come prezzi, bene. Vi piace Italy? Molto, per adesso sono appena arrivata, poi bisogna vedere. Col tempo, l'impressione è stata buona. È un fiore all'occhiello per Piacenza. Durerà? Sicuramente, bisogna essere ottimisti. Durerà, durerà, andrà bene. È un augurio anche, non solo per il Vita, ma anche per il Piacenza. Lei ha già fatto acquisti? Sì, ho già trovato la crema di pistacchi e un tè, limone e zenzero. Serviva a Piacenza una struttura così? Sì, sicuramente. Ha visto che ci sono prodotti di qualità? Sì, decisamente. Siete tra i primi ad aver fatto acquisti, usciti con una borsa della spesa piena. Vi è piaciuto? Moltissimo. È un bel posto e una meraviglia. Nicola e Francesco Farinetti, innanzitutto, l'avevate visto in anteprima, ma vi aspettavate tanti piacentini in coda per entrare? Beh, certo, ce l'aspettavamo, speravamo, poi non si dà mai niente per scontato, ma poi il nostro compito è quello di incuriosirli, di essere sicuro che poi tornino. Quindi verranno tutti a vederci e dobbiamo essere bravi a convincerli a tornare. Prima dell'inaugurazione c'è tensione, c'è agitazione o eravate sicuri del fatto vostro? No, c'è quella bellissima sensazione di adrenalina che c'è sempre prima delle aperture, che serve anche a cementificare poi il gruppo. Quindi siamo trovati in tutte queste notte, a partire dall'inaugurazione di domenica sera, dove abbiamo aperto le porte a Piacenza e adesso questa adrenalina calerà, però siamo qua pronti per aspettarli soprattutto per il pranzo. Un'ulteriore e definitiva conferma del grande successo di questa mattina, la coda per entrare. C'è troppa gente all'interno, dunque i responsabili di Italy Piacenza devono fare i turni ai piacentini che vogliono entrare a visitare il nuovo negozio. Grazie. Grazie. Grazie.